E quest'oggi, amici, vorrei dare uno sguardo al futuro prossimo, perché dal primo di novembre c'è un appuntamento che credo che molti vorranno rispettare. Si tratta di diamanti a tavola ad Amandola, io sono collegato questa mattina con il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, che mi avviso è il sindaco più attivo che c'è nelle Marche sotto il profilo delle attività, delle proposte, dei social. E allora, Adolfo, una grande manifestazione che mi consente di farti subito una domanda, che stagione sarà per questo tartufo? Intanto grazie, grazie veramente anche per le belle parole che non hai dato a me, alla mia città che è così vivace, che ha riscoperto, grazie a Dio, dopo il terremoto, la sua immagine reale di grande comune all'interno delle montagne fermane, quindi perla dei Sibillini da sempre nominata e centro e chiaramente porta est del Parco Nazionale Sibillini, quindi grazie per prima cosa. Come stagione? Fino adesso abbiamo avuto carenza di tartufo, ma mi dicono i tartufai che potrebbe essere con queste piogge delle ultime settimane, che potrebbe essere una stagione che potrebbe avere delle sorprese, quindi noi speriamo in questa sorpresa, anche perché parliamo di tartufo bianco, non il tartufo nero che oramai è quasi del tutto in coltivazione, quindi noi abbiamo tante tartufaie che producono il tartufo nero, sia il nero pregiato che lo scorzone, ma qui parliamo di bianco, dell'eccellenza, dell'eccellenza particolare. Senti, tu sei sindaco di una città che in omen omen, cioè già amando non si può non amare. Che cosa avete organizzato per queste tre giorni del tartufo? Anzi mi pare che sono quattro addirittura. Ne sono sei. No, quest'anno, l'edizione noi siamo alla ventisettesima edizione, oramai è un format consolidato, quest'anno vista la concomitanza anche delle festività del mese di novembre abbiamo ampliato l'offerta sia turistica che enogastronomica, e abbiamo quindi deciso di fare i primi due weekend, uno, due, tre, otto, nove e dieci. E quindi ripeteremo il primo weekend e il secondo in maniera quasi simile, con degli chef stellati, con delle cenevento, con delle uscite sul territorio insieme con i cani a raccogliere i tartufi che poi si mangeranno a pranzo con lo chef, ma soprattutto a vivacizzare tutto il centro storico. Non parliamo solo di tartufo bianco che è certamente il diamante della situazione, il tartufo nero, ma tutti i prodotti tipici della montagna picena, quindi dal formaggio, dai formaggi direi, dalla mela rosa, così al miele, così come a tutte le altre produzioni di eccellenza che abbiamo in questo periodo dell'anno. Ecco, allora, guarda, io direi questo, che dato che l'edicola del trap si rivolge ad una platea che non è solo, diciamo, delle zone vicine, io dico che anche quelli che stanno, che ci ascoltano dall'Italia e magari fuori Italia, vi assicuro che una gita, io ci sono stato, la conosco, una gita ad Amandola vale veramente la pena per lo spettacolo della città e poi per queste spavolose, questo diamante a tavola. E allora, Sindaco, un saluto e allora un invito fatto da lei. da Tizze Nostre ad Amandola, tra l'altro in una festa che si sviluppa all'interno di un centro storico medievale, sempre bello, sempre in linea con l'evento e che si riempie di tantissima gente. Ecco, a tutti dico, e lo lancio anche attraverso l'edicola del trap, se venite forse è meglio prenotare, altrimenti farete qualche fila di ore al botteghino per entrare nelle tantissime osterie. Quest'anno le abbiamo ampliate in numero e in qualità, ma il problema c'è sempre della grande, grazie a Dio, della grande frequenza e partecipazione. Quindi una bella prenotazione ci si mette al sicuro.